Ciao a tutti, ho aperto una parte dell'ordine, è un'ordine molto grande, il catalogo 17 con i prodotti di Natale, vi faccio vedere un po' quello che ho spacchettato e poi continuerò di spacchettare insieme a voi, c'è il set Possess che l'ho già aperto, che è un bellissimo regalo, il set Eclatfam, anche questo che viene nella scatola e dentro abbiamo il profumo con il deodorante Rolon, un po' ci l'aprivo e poi io mi sono messa il... eccolo qua, il profumo e il deodorante, li mettono qua, questi sono gli asciugamani, quelli dal catalogo, vi faccio vedere quanto sono di grandi, perché mi avete chiesto in tante, sono un po' più grandi delle oscure, io li uso uno al giorno, io con la bimba, quindi mi piacciono tantissimo e sono qui in una buona carità, questa è la saponetta, questa è la saponetta di Milk & Honey, della immaginazione limitata, cioè, è una cosa pazzesca, la saponetta, da quando l'ho visto nel catalogo, questi sono i prodotti che li uso tutti i giorni, e la saponetta così, è il silenzio e è scritto Milk & Honey, cioè il profumo di latte e miele è quello che mi penso in video, e poi c'è anche l'olio per il corpo che ce l'ha, i brillantini, se riuscite a vedere qua, si agita e poi si mette sul corpo, io me l'ho già messo sulla mamma, c'è anche la crema corpo, il Milk & Honey in edizione limitata, poi, la saponetta viene così grande, con la crema mani che erano all'inizio del catalogo, viene 2,25 euro, e la saponetta è la crema mani, vi faccio vedere la saponetta, che è una campanellina rossa, con il fiocco, e sul retro c'è il logo Orbitlay, e qua c'è la crema mani, che è una cosa, cioè, meravigliosa, da portare con noi tutti i giorni, e poi il packaging è meritoso, perché fa un regalo super chic, con vero, ok, qua c'è un bel po' di Well, di Omega 3, di Paccio, ce l'ho la palette Giordani, di Ombretti, una nuova palette, con i due colori, io mi sono presa questa classica, oro, ok, beh, non vedo nemmeno di usarla, di provarla, un bel po' di Tender Care, un bel po' di set Divine Royal, perché, cioè, con 15 euro viene bagno d'oxua, crema corpo, e il profumo, in cielo, c'è anche questo set, di Oman Collection, con fiori di ciliegia, vi faccio vedere subito, lo apro, adesso, è così, crema corpo, e il profumo, pazzesco, pazzesco, tutto bellissimo, quello viene a 12 euro e 50, poi, faccio un set, gli giordani, sempre nella scatola, profumo ed odorante, sempre, che, questo lo prendi, già, pronto per regalarlo, ancora, dei prodotti, qua, l'olio, ancora, un'altra crema, è una crema diamond, perché è in offerta, in questo catalogo, e c'è tanti clienti, che lo apprezzano, è una crema che può essere usata, sia di gioco, sia di notte, quindi, è ottima, il set, men's collection, con, bagno d'oxua, e il profumo, uguale, con 12 euro e 50, un bel più di, wow, questo, questo, aspettavo, in una maniera, il set, giordani, dove troviamo, tre prodotti giordani, ma, più che mi piace, mi fa imbattire, questa scatola, e abbiamo qua, la matita, nera, abbiamo, una mascara, e il, ombretto stick, per le guance, che può essere usato, sia per, per gli occhi, sia per le labbra, cioè, un buro cacao, colorato, profumato, cioè, questo, è meraviglioso, questo set, io ve lo consiglio, a tutte le vostre, amiche, quindi, sono preso, un bel po' di questo, stavolta, perché io li adoro, ho preso anche un, questo è giordano in più, poi, ah, mi sono andate, le cartoline di Natale, o di pieno, per lasciare dei messaggi, alle persone, ai miei clienti, ai miei clienti, se non sono così, sono in set da 20, ci viene 1,25 euro, poi, c'è l'offerta nel catalogo, 17, la mascara, che viene in regalo, con la matita, cioè, vi raccomando, di, di usare, questa offerta, fondo, tinta da Giordani, con, solo 7 euro, che, ce l'ha, lo strato di trofei bianchi, ce l'ha, anche protezione solare, molto idratante, molto, molto buona, per le persone, con la pelle matura, o la pelle secca, un bel po' di saponete, perché adesso è il periodo, quando tutti fanno, un pensierino, e noi abbiamo, delle saponete, meravigliose, le creme mani, uguale, quindi, chi usa questi prodotti, già conoscono la qualità, di questi prodotti, c'è un altro set, che costa 17 euro e 50, Amber Elixir, che abbiamo, crema corto, e il profumo, cioè, anche questo, è una cosa pazienza, il profumo, Amber Elixir, è stato il più vendito, in valore, l'anno 2019, ok, un bel po' di cataloghi, ho preso su, sono, quelle che mi serviva, e ancora, il set di Divine Royal, devo avere, due, quattro, cinque, cinque set di Divine Royal, ok, questo è il catalogo, per il 2020, ma, non ce l'ho adesso, a farvi vedere il catalogo, eh, 17, che è ancora valido, fino al 27 di dicembre, con questa offerta, questo è il primo ordine, che mi è arrivato, dal catalogo 17, quello che è il 24, e poi, è arrivato anche un'altra cosa, per i clienti loiali, da Oriflame, ho ricevuto in regalo, questa piastra, questo grill, ok, che io faccio qua, le bistecchie, qua c'è la, per il grasso, che si scioglie, che viene giù, vorrei dire giù, cade, vedete, e cade in questa scatola, che viene giù, posso fare le bistecchie, posso fare, dei toast, ok, questo grill, e questo è solo un regalo, perché devo ricevere, io faccio ordini, da due account, anche dal mio marito, devo ricevere anche, l'ordine dal mio marito, che posso, ce l'ho un altro grill, perché io sono, fissata, con i grill, che sono buoni, che mi fanno, le bistecche buone, deve arrivare, prossima settimana, questo è il, la saponetta, che, Vittoria l'ha vista, la morsa, perché profuma, molto molto bene, e poi, questi prodotti, sono molto molto buoni, sono attestati, sui uomini, sui volontari umani, sono dei prodotti, sicuri, sono dei prodotti, di ultima qualità, di qualità, di ebreze, questo è l'olio, che l'ho già usato, da milk and honey, che ce l'ha, i brilli, i luccini, io l'ho messo qua, ma è un profumo bellissimo, di latte miele, sulla mia pelle, poi anche, glum, per dire così, questo è il spacchettamento, mio caldo, il catalogo 17, sono qua sotto l'arbero, per me è arrivato, bavo natale adesso, arriverà anche prossima settimana, con un altro, dine fattesco, da questo catalogo, e saranno anche gli altri, perché, non ci fermiamo qua, fino al 27 dicembre, possiamo mandare gli ordini, per ordinare questi meravigliosi prodotti, cioè, meritiamo di usare dei prodotti, non solo di Natale, di comprare, per regalarli, o di fare un regalo a noi, cioè, possiamo regalarci, questi meravigliosi prodotti, di ottima qualità, ho tutto il tempo dell'anno, cioè, un sconto di 40%, avere tutto, a portata di mano, vi arrivano a casa, come se non è le parti, mi è arrivato proprio stasera, io vi ringrazio, spero che vi hanno piaciuto, il mio spacchettamento, questo veloce, 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 vado subito, a preparare gli ordini, che domani, saranno in consegna, a ciao, grazie a tutti,